Agli iscritti aere non gli è consentito il rilascio della carta d'identità elettronica qualora la richiedessero direttamente in Italia. Un arcano che va sciolto eppure in fretta. Peraltro le sedi consolari potrebbero utilizzare il tempo dedicato a questo servizio per il disbrigo di altre pratiche. Tutto questo avviene mentre i vari decreti semplificazioni dovrebbero inaugurare una nuova fase di miglioramento a beneficio, si spera della collettività tutta, quindi anche di quella residente all'estero.